Bene a tutti ragazzi, io sono Axionale24 e oggi con me c'è... Vimox, ciao ragazzi! Ebbene ragazzi, oggi è il primo anno con voi su YouTube. Insieme ne abbiamo passate tante e conosciuto anche i nuovi amici. Ma comunque, volendo guardare, dal primo video siamo sempre cresciuti pianin' piano. E oggi Axionale voleva festeggiare tutto questo piccolo e simpatico montaggio. Quindi ragazzi, buon divertimento e soprattutto grazie. E soprattutto ciao! Vener, mi unirò io, al lato oscuro della forza! Non ti suone? Pezzo di merda! Allora ci vengo io con te! Io sono oscuro! Dai, facciamoci l'armature! Scusa, è il tuo cane, mannaggia questo cane! Ammazzatelo! No, lascio stare! Ma i 40 pezzi di ferro dove sono, scusate? Vado a sedere, che se no lo ammazzo! Eh, no, no, ti prego, sediti, non si siede! No! Non si sedeva! Non si sedeva! Comunque adesso qui noi cominciamo subito! Intanto guarda, giriamo! E qui ci ha tamponato veramente male, ragazzi! Non si sedeva! Ho visto l'è! OOOOOOO! OOOOOO! OOOOOOOOO! la cosa bella di questa macchina lettore il checkpoint partiamo qui ecco ho scritto epic fail ovviamente ho fatto una grandissima figura di merda dai 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 rimpello di botte questo riempilo questo questo è fuori dall'acqua quindi lo carico tu sei nel mio mondo ecco me l'ha droppato che fa è giocato uno è giocato uno come è entrato uno si è entrato uno si è entrato uno si illuminati è entrato uno si tu puoi fagli i banners va ragazzi l'ho bannato adesso arriva il pezzo forte il mega warride con get wrecked incorporato guardate questa è la scena che vi lascerà a bocca aperta ritorno dritto dopo uno schianto faccio marci indietro e scrivo l'auto in fiamme di bevi c'è questa propria pesa ragazzi pesa tantissimo una cosa di tag life di questa non l'ho mai vista 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 lato piazza gli esplosivi sopra la strada e poi quando si passa sopra le macchine falli esplodere stai beh questa è stata un'ottima mossa vai tante scemo di merda mica trovo vista col dito medio lo vedi ti piace vieni qua vieni qua vieni qua a fare eh 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 che vuoi? che vuoi? che vuoi? vuoi buscare? oh chiamano amico mio eh chiamano amico mio eh chiamano amico mio eh chiamano amico mio polizia 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 davvero chiamano amico e tu l'ero più a me non prego e chiamano altro amico e stiamo usando un giocatore noi inventato john de culet lui delimitabile lui alto 1,52 m di cattiveria 120 kg di ciccia ah 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 ho visto eh viene dalla nazione piera di gente il buta dove sta bu ten bu 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 zii? eccolo non passano nulla è il signore Ma lui è cucina di Eugenia. A me non riesce a volarvi. Tony Cross! No! E' riuscigliato! No! 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 Stupendo! 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 Buono! Stupendo il cuore. Cosa? Non si sa via. Se arriviamo dentro. Ma com'è? Guarda, mi aspetti! Vabbè, dai, ti aspetto qui, dai! E vai! Voglio essere buono. Però ti aspetto con un mitra in mano, ti aspetto. Io te lo dico subito. Non concludere! No, no! Non concludere! No, no! Parti, parti, parti! No, dai! Non ho preso manco il check point! No, per scusa, pensavo che l'avevi preso. Allora... Tanto qui non c'è la B. Oddio! Ok! Prendi questo! Una bellissima coltellava! E vai! Mi vince! Mi ha trollato! Dai! Vengo solo da te! E vai! Mi vince! Con la sua macchina! Ok, ok, ok! Giuro! Giuro che non c'è! Ti aspetto! Vi m'avoica! Grazie a tutti